la tua anima gemella ti ha scritto sul polso sul mio polso ehi wow si l'ha fatto ciao sarà come stai ti ha scritto la tua anima gemella si mi ha scritto e la tua invece ancora no lo farà tranquilla mi piacerebbe dedicarti una cosa aspetta ti scrivo una cosa come puoi perdere qualcuno che ancora non conosci ho bisogno di incontrarti ma ancora non l'abbiamo fatto signorina amicoli per favore può prestare attenzione sì prof mi scusi stasera andrò ad una festa vieni e chi ci sarà tutti i ragazzi dell'ultimo anno ok verrò ciao sarà ehi amico lei è nicole vuoi sentire cosa mi ha scritto la mia anima gemella vai racconta come puoi perdere qualcuno che non conosci ho bisogno di incontrarti e ancora non l'abbiamo fatto voglio troppo incontrarla sabri non ci posso credere il tuo segno è già apparso sì finalmente l'ho incontrato ma davvero posso vedere il tuo segno sì certo guarda e sai anche chi è è luca ancora non ci credo wow sono molto felice per te amica nicole nicole ho incontrato la mia anima gemella ma tu ancora non sei niente della tua no ancora no scusami non ti ho vista scusami non era mia intenzione non ti preoccupare non capisco stanno tutti incontrando la propria anima gemella forse devi provare con più persone ehi andrea scusami ho dimenticato la penna potresti prestarmene una sì certo tieni grazie ho già provato ma niente forse non ho un'anima gemella mi sembra strano perché guarda al tuo polso ma niente forse non ho un'anima gemella